Collegare un qualsiasi dispositivo USB allo smartphone, che sia una chiavetta USB, una tastiera, un mouse o un aspirapolvere o del gatto, potrebbe tornare utile, ma il maledetto cavo OTG all'occorrenza è sempre irreperibile. Il cinese è chiuso, ma il fidato saldatore a stagno è sempre pronto, quindi con 5 minuti ed un po' di pazienza lo si costruisce. Se fortunatamente i fili dei due cavi da assemblare insieme hanno gli stessi colori, l'operazione è veramente una passeggiata. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. 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 Ciao.